ecco qua uno e ecco qua due alè finalmente ma mentre ci guardava così ecco ci è arrivati alè dunque nina no dall'altro lato dove sei aspetta per qualche arcano motivo non mi ha non mi ha fatto la dai ma porca ecco fatto allora certo che veramente se non hai questo qua sta sezione te la puoi bellamente sognare di fare eh perfetto va bene tutto però che palle vabbè 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 calmi per fortuna sto giro ah ho parlato troppo presto ecco qua dicevo questo giro non si stava girando dalla parte opposta dalla parte opposta no che succede no dove sto andando vabbè meglio qualcosa l'abbiamo ottenuto lo stesso dai piano piano comunque ci arriviamo dovevo solo capire adesso che è stato ah ecco cos'è stato dicevo dobbiamo capire solamente dove dobbiamo passare ecco qua certo purtroppo è un po' sprecata visto che dicevo non abbiamo moltiplicatori calmo no ma perché crash lo fai come cavolo vuoi tu ecco qua una porca di quella miseria va che è difficile sta parte eh purtroppo non è preciso ma proprio mai non è preciso ma proprio zero no è crash cazzo ecco fatto cambiamo via no non ci arriviamo oh è morto niente dobbiamo farlo per forza con lui ale finalmente è ok come fa no ti prego allora aspetta ok perfetto bravo crash perfetto allora qui dovevamo farcela a piedi per fortuna meno male aspetta perfetto vai 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 guarda chi se ne frega delle sfere dei due per tu vai non ti curar di loro ecco qua un'altra volta la cosa a tempo davvero vabbè io vado avanti me ne frega niente né delle cose a tempo veramente né di tutto il resto ma proprio con tutto l'amore possibile no non c'era niente pensavo ci fosse una pedana con tutto l'amore possibile per il brand ma basta ragazzi ragazze specie di sesso indeterminato pervenuti alla scuola pubblica del male qui alla scuola pubblica del male imparerete i principi base di malvagità che governano la società come la scienza folle la matematica folle kabum la ginnastica e la tortora qui da noi gli allievi imparano il valore quella lì c'è una pistola vera in mano e guardate c'è una nuova allieva benvenuto alla nuova studentessa sì la sua vita è veramente a pezzi ma poverina su indicatele ridete di lei pensi di avere la stoffa per entrare nella scuola pubblica del male ma scordatelo le classi sono piene noi odiamo i nuovi vabbè vai alla scuola di Nina ora dobbiamo entrare va bene posso menare qualcuno allora spero di non dover mai più ritornare in questa sezione non a piedi perlomeno perché veramente credetemi voi non l'avete visto è stato veramente un inferno farla sta parte credetemi ecco qua è stato veramente orribile questa parte perché tutti i pezzi in cui devi caricare con con la carica in avanti per farti lo slancio hanno una tempistica sbagliata dai c'era line bot dai sbloccati ecco fatto ma dai che è successo non vedo sconfiggi 75 marmocchi perfetto ecco fatto amico di ghiaccio dove sei? per favore muori perché non ti posso prendere mi spiace ecco fatto dagli armadietti qualsiasi arma della rovina non esplosa al termine della giornata mi sono stufato di sostituire i videlli dai perché non si apre boh vabbè non lo so ogni volta ste pedane qua fanno schifo allora proviamo a lasciare giù lui ok e ce ne siamo liberati ora entriamo qua sotto no ho sbagliato ecco qua e andiamo dall'altra parte ecco fatto ok salito di livello bravissimo si 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 levati però ora ascoltate studenti ok alcuni di voi hanno reso lode a UCO ah ma può oh aspetta perfetto posso no crash ecco qua dai no ma perché non stai aperto ho dovuto guardare un tutorial per capire che la giravolta io posso continuare a farla così e non devo per forza continuare a fare questo merda allora aspetta ecco qua ok vai 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 perfetto ma che cazzo ma neanche sono spawnato ma vaffanculo che cazzo ti ridi ma vai via cioè io capisco la vabbè non saltiamo neanche non saltiamo oltre le cose vabbè io proseguo tanto saluti studenti siamo stati avvistati dei si 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 brava marmocchia ma bene questo è stato ingiusto vieni qua tu hello no porca miseria me lo fai rispawnare eh per forza mi sono dovuto ammazzare non rispawnava ok torniamo indietro cagnotti della scuola pubblica del male no ho sbagliato ecco qua ah ok perfetto aspetta vai anzi no meglio di no metti che mi muore e mi serve crash muoviti vai 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 sinceramente me ne frega niente di avere il doppio dei punti o altre cose facciamo sta parte vieni con me il più velocemente possibile dicevo ok allora perfetto questo lo lasciamo giù destra o sinistra di qua perfetto vediamo qua non c'è nulla via in modo terminale prima o dopo l'applicazione dell'nv dovranno essere sostituiti ma questa è una fan è sulle fan art che abbiamo visto l'altra volta ma dai allora calmi un attimo ma va vi levate e che cavolo kabum ecco fatto dicevamo allora prima farei questa qua allora uno è andato due andati e via dove siamo ah ciao nina dove gliela sta mettendo quell'ampolla che ci fai qui lasciami stare io ti odio mi hai rovinato la vita ma dai allora come ti va come mi va va una merda e va frequento la scuola pubblica del mar ero la reginetta della scuola privata di madame amberley e adesso mi ritrovo con la feccia della società è tutto per colpa vostra ma comunque ci serve il tuo aiuto cosa tuo zio sta usando un nuovo tipo di aura cattiva per controllare i mutanti e adesso ha preso crunch dobbiamo trovarlo e aiutarlo e avete bisogno di me ma che bellezza e quando uscite e non sbattete la porta che prego nina faremo di tutto di tutto fatemi uscire da qui ma si baciatevi ma dai cosa si baciatevi proprio ora questo mi divertirà non ho un progetto da finire per la mostra di scienza malvagia voi dio piccioncini potete aiutarmi Ma dai Proteggi il progetto scolastico di Nina No ti prego Lo sapevi che se calcoli bene i tempi di un attacco Puoi respingere i proiettili? Sì Ora lo sai Eh, bughi di cosa? Come cazzo facevo a sapere Cosa dovevo fare? Ok, ciao Lo sapevi che se calcoli bene i tempi di un attacco Puoi respingere i proiettili? Beh, ora lo sai Eh Ok Allora Devo capire il giro Ho capito che posso respingerli a manate Ma il problema Resta il fatto che devo capire da dove parte No, fa un culo Crash Lo sapevi che se calcoli bene i tempi di un attacco Puoi respingere i proiettili? Tanto se posso Ora lo sai No No Ah Dai Ma non Ogni due volte non prende il colpo Poi non so mai da dove parte Ma va bene Crash Non sapevi che se calcoli bene i tempi di un attacco Puoi respingere i proiettili? Beh Ecco qua Ecco fatto Preso 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 Ale Finalmente La vittoria è così dolce Così Incredibilmente dolce Dè Cortezza 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 E vai Hai terminato un quarto del gioco Cancello di metallo nel deserto Andiamo E vai E si torna indietro Attenzione Studenze Cancello di metallo nel deserto Cancello di metallo Cancello di metallo nel deserto